Fia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Eccoci mamma, rinnoviamo il nostro atto di fusione e continuamente intendiamo essere fusi nell'atto unico del Divino Curiore, sempre, sempre, per mezzo a Tua mamma. Intendiamo Gesù scambiarci la volontà. La nostra volontà viene a vivere in Te e la Tua volontà in noi. Così nella nostra volontà, la Tua volontà, nella nostra intelligenza, la Tua intelligenza, la nostra memoria, la Tua memoria. Gesù, nei nostri atti, i Tuoi atti, volontari, involontari, visibili, impercettibili, tutto si muova di Te in noi. Vogliamo ricevere tutta la grazia che Tu ci vuoi donare. Per questo, Gesù, veniamo a depositare tutto nelle mani di Maria. Intendiamo solo essere Tuoi. Ti portiamo anche le ferite affinché la mamma, Tu, le possa sacrificare. Le ferite che ci ha causato il peccato. Abbandoniamo a Te. E confidiamo in Te, mamma, in Te, Gesù. E nella nostra fragilità, la Tua fortezza. Nel nostro culo è il Tuo tutto. Nel nostri pensieri, i Tuoi pensieri. Nelle nostre intenzioni, le Tue intenzioni. Nel nostro fare, il Tuo fare. Nel nostro essere, il Tuo essere. Nel nostro culo è tutto Te stesso. Il Tuo amore. Tutti sei amore. Ecco, Gesù, veniamo a Te. Intendiamo essere ad amarti, ad orarti, a ringraziarti, a benedirti. Tu per noi, noi per Te. Il Tuo amore. Ti amiamo e adoriamo. E ringraziamo e benediciamo. Chiamiamo Fia. Continuamente impetriamo Fia. Intendiamo essere nella Tua Santissima umanità. Per ringraziarti e benedirti. E riprendere tutti gli atti che hai compiuto per noi. E per tutto. E sostituire tutti gli atti nostri con i Tuoi. e ridare a Te la gloria, la lode, l'onore, il riconoscimento, il ringraziamento e la benedizione. affinché la Tua benedizione, la Tua vita divina, stia su tutti i nomi. E per la Tua Chiesa, per le famiglie e la Tua presenza, Te e noi, e noi interi ad amarti. E con Gesù vogliamo riprendere anche gli atti che hai compiuto per noi stasera, le conoscenze. L'amore, la vita divina, veniamo a riascordire tutto. E a riportare tutto nella nostra vita. E nella vita di tutti. Veniamo a riprendere ogni atto che Tu hai già compiuto. Di conoscenze, di amore, di riparazione, di insegnamento. E che insegnamenti li facciamo nostri. E li riverberiamo su tutti e su ciascuno. E prendiamo la Tua benedizione, Padre. La chiamiamo, la invochiamo. La desideriamo. Che l'intercessione della mamma benedisce il Dio Padre Nipotente. E imprimi in noi, in tutti ed in ciascuno, la Tua benedizione e la Tua vita divina. E noi, nell'Eco Eterno, lasciamo il nostro Eco Eterno. Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Allora andiamo a condividere lo schermo. Ecco, si vede lo schermo? Sì. Sì. Sì, sì, si vede, sì. Ok. Dobbiamo iniziare il 31 luglio. Benissimo. Allora, siamo al brano precedente. Ok. Prego, Daniela. Se puoi. Sì. 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 31 luglio 1902. La vera carità deve essere disinteressata. Devo leggere. Allora, nelle opere sante e di carità che si fanno, non si deve essere l'interesse, né in chi le fa, né in chi le riceve. Trovandomi nel mio solito stato, parecchie volte ho visto il mio adorabile Gesù, ma sempre in silenzio. Io mi sentivo tutta confusa e non ardivo di interrogarlo, ma pareva che voleva dirmi qualcosa che feriva il suo sacro cuore. Finalmente, l'ultima volta che è venuto, mi ha detto, figlia mia, la vera carità deve essere disinteressata da parte di chi la fa e da parte di chi la riceve. E se c'è l'interesse, quel fango produce un fumo che acceca la mente, che impedisce di ricevere l'influsso e gli effetti della carità divina. Ecco perciò in tante opere, anche sante, che si fanno, in tante cure caritatevoli che si eseguiscono, si sente come un vuoto e non ricevono il frutto della carità che fanno. E qui si parla proprio dell'intenzione. Allora prepariamo il nostro quadernino, come al solito, e mettiamo quelle parole chiave che ci aiuteranno a disporci alla conoscenza, alla comprensione e quindi ad andare incontro alla grazia. Gesù, quando vede che l'anima si dispone, affretta la grazia, riverbera, riversa su di noi tutto ciò che sta pronto. Allora ecco che, appunto, la vera carità deve essere disinteressata, cioè disinteressata da parte di chi la fa. Quindi perché noi abbiamo una sola intenzione, l'abbiamo detto ultimamente anche nella fusione appena fatta, non nel rinnovo di fusione appena fatta, che noi vogliamo la tua intenzione, Signore, solo la tua intenzione. Quindi non è il nostro interesse. Parliamo per te, respiriamo per te, dormiamo per te, mangiamo per te, lavoro sì, per avere lo stipendio a fine mese, ma per te. Mettiamo tutto in te, con te, per darti gloria, per guadagnare la gloria tua, per guadagnare tutta la vita divina che tu ci vuoi donare per felicitare te. Perché anche lo stesso regno è per dare gloria a Dio. Il nostro interesse deve essere quello di dare a Dio. E noi quando riceviamo, beh, riceviamo da Dio gli effetti del suo amore. È tutto il profitto, è tutto stando in Dio, vivendo del suo stesso amore. Riceviamo il suo amore con tutto quello che vuol dire infinita grazia. Bene, quindi la carità, tutte le opere devono essere sempre per l'interesse di Lui. E da parte, ok, e se c'è l'interesse, e beh, chiaramente non c'è più la vera carità, che vuol dire amore, cura. Quindi non è una vera cura dell'altro, non è un atto per l'altro, è un atto per ricevere noi. Quindi in sé per sé non è più carità, non è più cura. Perde significato, no? Nella sua proprio interiorità, nella sua accezione più profonda. E impedisce di ricevere l'influsso e gli effetti della carità divina. La carità divina la riceviamo solo se operiamo per Lui. Ecco perché in tante opere, anche sante, che si fanno, in tante pure caritatevoli, si sente come un vuoto e non ricevono il frutto della carità che fanno. Quindi fatto tanto del bene, eppure, perché magari c'è un atteggiamento solo egoistico. Quindi è una maschera, no? Come siamo noi nell'umano volere. Però adesso stiamo imparando sempre di più, attraverso gli insegnamenti, a deporre le nostre miserie per prendere la sua ricchezza. Provo a leggere io, eh? Sì. Agosto 2, 1902. La divinità operava e dirigeva in tutto l'umanità Santissima di Gesù. Quindi faceva in modo perfetto e divino quello che tutti e ciascuno dobbiamo fare. Abbiamo come al solito le tre edizioni, quindi i titoli cambiano un po', ma a parte qualche pronome, qualche parola, non qualche congiunzione, è uguale. Questa mattina, il mio adorabile Gesù, dopo avermi fatto molto ostentato, tutto all'improvviso è venuto, spandendo raggi di luce, ed io sono stata investita da quella luce, e non so come mi sono trovata dentro di Gesù Cristo. Chi può dire quante cose comprendevo dentro di quella umanità Santissima? Solo so dire che la divinità dirigeva in tutto l'umanità, e siccome la divinità in un medesimo istante può fare tanti atti, sottolineamola, la divinità in un medesimo istante può fare tanti atti, quanti ciascuno di noi può fare in tutto il periodo della vita e quanti atti vuol fare ora, essendo che nell'umanità di Gesù Cristo operava la divinità. Comprendevo con chiarezza che Gesù benedetto in tutto il corso della vita rifaceva per tutti in generale e per ciascuno distintamente tutto ciò che ognuno è obbligato a fare verso Dio, in modo che adorava Dio per ciascuno in particolare, ringraziava, riparava, glorificava per ciascuno, lodava, soffriva, pregava per ognuno. Onde comprendevo che tutto ciò che ognuno deve fare è stato già fatto prima nel cuore di Cristo. Ecco, vediamo come si diceva anche ieri sera. Se non leggiamo i primi volumi, come si fa a cogliere una comprensione più avanti? Se manca una base non solo del fondamento nella parte intellettuale, quindi nella comprensione, ma nella parte interna, nella vita, che deve crescere in noi, cioè nel nostro abbandonarci. Attraverso la comprensione noi affermiamo di più il desiderio di abbandonarci. ed ecco perché è impossibile tralasciare i primi volumi e ricevere il dono, vivere il dono. Siamo al quarto volume, alla metà. Sentiamo che cosa c'è di grandioso rivelato. Quindi Luisa vede l'interno di Gesù e capisce che Gesù in ogni suo atto, leggiamo, la divinità in un medesimo istante può fare tanti atti quanto ciascuno di noi può fare in tutto il periodo della vita. Non solo. E quanti atti vuol fare? Quindi se un'anima dice guarda io vorrei amare tutti, fare questo, aiutare tutti, dire a tutti cose belle, eccetera, ma è un essere, è una creatura finita, quindi non può. Nella divinità, nella divina volontà, con la divinità di Gesù si può tutto, con la vita divina si può tutto, in un medesimo istante. Tutti gli atti di quella creatura e non solo, tutti gli atti di desiderio, quindi che si vogliono fare. Ora, essendo che nell'umanità di Gesù Cristo operava la divinità, comprendevo con chiarezza che Gesù benedetto in tutto il corso della vita rifaceva per tutti e in generale per ciascuno distintamente tutto ciò che è obbligato a fare verso Dio. Che cosa siamo obbligati a fare verso Dio? Ad amarlo. Abbiamo visto l'ovia? Ad amarlo. Quindi poi nella forma di dare gloria, dare lode, dare riconoscimento, ringraziamento, benedizione, adorazione, baci, abbracci, ok? Riparazioni. Ma è amore. Perché lui, abbiamo visto qualche, l'altro ieri, la penultima volta, che Gesù dice i miei attributi sono le virtù, no? Ma la mia sostanza è amore. Allora, lui che è amore deve ricevere amore. Quindi, l'amore che noi possiamo dare è niente, è nulla, perché siamo nulla. solo desiderando di immergerci in lui, di donare la nostra volontà, che è il dono più grande che ci ha fatto, che non va a morire, va a consumarsi, quindi a donarsi, a dare tutto per Gesù. quindi, ecco che succede, che succede che noi siamo ripieni della sua volontà, c'è uno scambio, eh? La fusione non comporta che la nostra volontà è annullata, perché noi diciamo ti dono la mia volontà, mi fondo in te e tu fonditi in me. Quindi c'è uno scambio. Allora, ecco che quando noi siamo ripieni della sua volontà, quindi siamo ripieni della sua onnipotenza, ecco che tu, tutto si realizza. Gesù capisce, Luisa dice, comprendeva che Gesù nella sua santissima umanità faceva gli atti di tutti. Allora, mentre nell'umanità l'atto era uno, no? Se beveva, beveva, non è che beveva cento bicchieri, infiniti bicchieri, no? Mille bicchieri, infiniti bicchieri di acqua, beveva, faceva un gesto di pena. Ma in quel gesto la sua umanità compiva un gesto, ma la sua divinità compiva infiniti gesti del bere e rifaceva gli atti di tutti in generale, quindi in un modo generale, di ridare a Dio amore per tutti e per tutti in generale e in ciascuno. Quindi ha rifatto tutti gli atti di tutti noi, anche minimi, i respiri, i palpiti, i pensieri, il camminare, il correre, il giocare, il crescere, il dolorare, il gioire, il morire. Solo il peccato non l'ha fatto, ha fatto atti furi e santi e divini che noi andiamo a prendere per sostituire i nostri. E la riparazione, si dice stesso. Va bene? Rifaceva per tutti in generale e per ciascuno distintamente tutto ciò che ognuno è obbligato a fare verso Dio. Quindi lui faceva tutto in modo che adorava Dio per ciascuno in particolare, ringraziava, riparava, glorificava per ciascuno, lodava, soffriva, pregava per ognuno. Quindi, quando abbiamo sentito adesso nel rosario di padre Bernardino Bucci che noi ogni momento che cosa facevamo? Gesù, siamo lì, eravamo presenti lì, siamo lì e ti amiamo, adoriamo, ringraziamo. Quindi, se leggiamo queste, quest'ultime due righe, siamo obbligati, allora, lui ha fatto tutto quello che la creatura, ogni creatura è obbligata a fare. Quindi, ringraziava, riparava. Allora, quando ci fondiamo, andiamo a meditare, Gesù, vengo a te e ti amo, ti ringrazio, che sto facendo? Con la sua divinità, con la sua potenza, io lo ringrazio, quindi gli sto dando la sua corrispondenza, lui ha fatto quest'atto per noi e noi finalmente andiamo e facciamo per lui. e questo che cosa accade? Lo ricompensa, lo rinfranca, lo solleva, gli dà quella corrispondenza e quindi rimette a posto lo stato di giustizia, gli ridà quella corrispondenza d'amore che lui deve avere. Ecco perché avete sentito, no, che sempre diciamo ti amo, ti adoro, ti rendo gloria, ti ringrazio, perché sono tutte le corrispondenze per dargli amore, per dargli il suo stesso valore, col suo stesso valore e lo facciamo. Ditemi se è chiaro? Sì, sì. Agosto 10, 1902. Avanti allora. Luisa si vede priva di Gesù a causa del mondo bisognoso di castigli per evitare che aumentino le tenebre. Daniela ti chiedo di leggere un attimo. Trovandomi sommamente afflitta per la perdita del mio sommo bene, il mio povero cuore è lacerato continuamente e subisce una morte continua. Ora, venendo il confessore, stavo dicendogli il mio povero stato e lui ha incominciato a chiamarlo e a mettere in tensione. Ma che? La mia mente lasciava sospesa per qualche istante, vedevo come un lampo e fuggivo e ritornavo in me stessa senza vederlo. Odio che pena, ma son pene che neppure si sanno esprimere. Onde dopo di aver molto stentato, finalmente venuto. Ed io, querelandomi con lui, mi ha detto, figlia mia, se non sapessi la causa della mia assenza, avresti forse qualche ragione di lamentare della mia assenza, ma sapendo che non vengo perché voglio castigare il mondo, a torto ti lamenti. Ed io, che c'entra il mondo con me e lui si c'entra perché nel venire io da te tu mi dici Signore voglio soddisfarvi io per loro, voglio soffrire per loro ed io essendo giustissimo non posso ricevere dall'uno e dall'altro la soddisfazione di un debito e volendo prendere da te la soddisfazione il mondo non farebbe altro che imbaldanzire sempre più mentre in questi tempi di ribellione sono tanto necessari i castigli e se ciò io non facessi si faranno tante dense le tenebre che tutti resterebbero accecati mentre ciò diceva mi sono trovata fuori di me stessa e vedevo la terra tutta piena di tenebre appena qualche strascico di luce che ne sarà del povero mondo da molto da pensare alle cose tristissime che succederanno Fiat Fiat e qui è sempre il il dolore di Gesù e il dolore di Luisa che sempre sempre fa lamento ma che Gesù spiega una volta di più e che l'abbiamo visto diverse volte già figlia mia se non sapessi la causa della mia assenza avresti forse qualche ragione di lamentarti della mia assenza ma sapendo che non vengo perché voglio castigare il mondo ha tolto dei lamenti quindi Gesù dice devi stare anche alla mia alla mia giustizia per cui Gesù ha spiegato più volte a Luisa e quindi lo spiega anche a noi che i castighi sono non voluti da Dio ma sono proprio la triste conseguenza dello stato in cui ci siamo trovati e quindi la giustizia in cui ci troviamo che provochiamo e la giustizia deve rimettere per ordine di grazia deve rimettere le cose a posto anche perché nella sua omnipotenza ogni efficienza ogni veggenza vediamo che sa già che appunto le creature si imbaldanziscono questa parola è già stata usata ora non voglio fare la ricerca però l'abbiamo ingagliardiscono ecco l'avevo usato ingagliardiscono adesso imbaldanzire sempre di più quindi il mondo non farebbe altro che imbaldanzire sempre di più mentre in questi tempi di ribellione sono tanti necessari i castighi quindi anche sempre tutto quello che è volontà di Dio volontà voluta volontà anche permessa di tanti eventi appunto tragici è proprio perché servono sempre a evitare il peggio quindi a a ridare praticamente al al mondo sempre è sempre un atto di amore sempre per aggiustare le sorti dell'umano dell'umanità che dell'umano volere quindi dell'umanità che si perde mentre ciò diceva mi sono trovata fuori di me stessa e vedevo la terra tutta piena di tenebre quindi fa vedere proprio questo scenario con qualche barlume di luce quindi evidentemente siamo all'ora quindi oggi peggio siamo sempre più in uno stato di pena ok e quindi è necessario Luisa abbiamo visto molte volte in questo scenario c'è una lotta di amore no? e vince Luisa quante volte l'abbiamo visto quando anche sempre nel volume 4 la mamma si intromette e chiede proprio di far soffrire Luisa diverse volte e questo appunto è probabilmente una volontà di Gesù che chiama le anime a fare poggio chiama lui stesso vuole avere il poggio quindi le anime ad offrirsi a Luisa ad offrirsi lei che è anima vittima e noi possiamo aiutare come possiamo aiutare l'abbiamo detto lo ridiciamo con gli atti con i giri con la fusione non atti e giri a vuoto ma atti e giri con la fusione entrare in quella vita divina e portare la nostra preghiera nella sua stessa vita con la sua stessa potenza solo se ci svuotiamo se gli doniamo la nostra in questo senso svuotiamo non che andiamo a buttare ma appunto a donare a far vivere la nostra volontà di volontà divina ed ecco che quindi dicevo abbiamo visto diverse volte questo scenario di combattimento per cui poi vince spesso abbiamo visto che vince anche Luisa offrendosi per l'intercessione della mamma o del confessore che mette l'intenzione però anche Luisa poi deve arrendersi all'ubbidienza e a capire ecco che quindi Gesù può la rimprovera tra virgolette dicendo ha torto ti lamenti sapendo che io devo per forza castigare per evitare che si imbaldanziscono di più leggenti ecco questa è la santa obbedienza anche per lei cioè che lei insegna che lei vive e che insegna a noi che anche noi dobbiamo imparare ok 3 settembre 1902 ma Daniela continua per favore Luisa è vietato morire all'ubbidienza Gesù ha ceduto tutto quello che fece e meritò tutte le creature specialmente a che vittima questa mattina trovandomi nel solito mio stato mi sono sentita venire un male naturale tanto forte da sentirmi morire onde temendo che potessi passare dal tempo all'eternità e molto più temevo che il benedetto Gesù appena viene e dal più ad ombra che se ci veniva secondo il solito io non temevo punto quindi per fare che mi potessi trovare in buon punto pregavo il Signore che mi cedesse l'esercizio della sua santa mente per soddisfare i mali che ho potuto fare con i miei pensieri i suoi occhi la sua bocca le sue mani i piedi il cuore e tutto il suo sacratissimo corpo per soddisfare a tutti i mali che ho potuto commettere e a tutto il bene che dovevo fare non ho fatto mentre ciò faceva il benedetto Gesù è venuto tutto vestito a festa in atto di ricevermi tra le sue braccia e mi ha detto figlia mia tutto ciò che meritai cedetti a tutte le creature in modo speciale sovrabbondante a chi è vittima per amor mio ecco che tutto ciò che vuoi ti cedo non solo a te ma a chi vuoi tu e io ricordandomi del confessore gli ho detto Signore se mi portate vi prego di contentare il Padre e lui è certo che qualche ricompensa ha ricevuto merce la carità che ti ha fatto e siccome lui ha cooperato venendo tu a me nell'ambiente dell'eternità altra ricompensa gli darò il male ingagliardiva sempre più ma mi sentivo felice trovandomi al porto dell'eternità in questo mentre è venuto il confessore e mi ha chiamato all'ubbidienza io avrei voluto tacere tutto ma lui mi ha obbligato di dire tutto e lui se ne è uscito col solito ritornello di non dover morire per obbedienza con tutto ciò il male non cessava Fiat Fiat allora qui vediamo Luisa che sta per coronare la sua vita con l'andare in paradiso ma è bloccata dall'obbedienza e quindi dalla potestà sacerdotale allora vediamo un attimino intanto Luisa quindi sentiva dolore fisico non un male naturale mi sono sentita venire un male naturale tanto da sentirmi morire quindi pensava di morire e che cosa fa? temendo che potessi passare dal tempo all'eternità che cosa fa? comincia a compiere gli atti finali no? quindi per fare che mi potessi trovare in buon punto pregavo il Signore che mi cedesse l'esercizio della sua santa mente per soddisfare i mali che ho potuto fare quindi prendo tutti i tuoi santi pensieri no? leggiamolo come atto per noi che prendiamo subito a fare noi come facciamo tante volte no? mentre leggiamo Gesù prendiamo subito aspettiamo l'ultimo momento prendiamo subito tutti i tuoi santi pensieri i tuoi pensieri divini le tue logiche tutto tutto quello che hai vissuto per me per tutti e per ciascuno e li facciamo nostri per soddisfare i mali che ho potuto fare con i miei pensieri prendiamo tutti gli atti che hai compiuto con gli occhi per soddisfare il padre e riparare i peccati che ho commesso con gli occhi prendiamo gli atti che hai compiuto con la tua bocca con le tue mani con i tuoi piedi con il cuore e con tutto il tuo sacratissimo corpo e sostituiamo tutti gli atti nostri Gesù lo stiamo facendo veramente vogliamo amarti Gesù e ripararti con le tue stesse riparazioni prendere i tuoi atti per sostituire i nostri per soddisfare per tutti i mali che abbiamo potuto commettere e per darti tutto il bene che dovevamo fare non abbiamo fatto ecco quindi Luisa si preparava a morire rifacendo tutti gli atti suoi guardiamo la semplicità quindi tutto il sacrificio diciamo così che dobbiamo compiere è proprio quello di essere abbandonati riuscire ad allevarci di mezzo nel proprio modo ok riuscire a fidarci di Maria di Gesù e a fidarci a Maria Gesù alla divina volontà perché fatto questo Gesù abbiamo letto nel brano precedente due tre brani sopra ha fatto comprendevo abbiamo letto che lui in ogni atto aveva compiuto gli atti di tutti di tutti noi e di tutti e di ciascuno in modo generale e particolare quindi quando noi ci fondiamo andiamo a prendere i suoi atti e li sostituiamo ai nostri è semplice è la santità delle santità dove non ci sono ombre perché la sua stessa vita è in noi e comprendendo questo quanto più ci invogliamo ad abbandonarci perché tutto sta pronto siamo noi che mettiamo il freno ecco perché bisogna leggere e ruminare ben bene e teniamoci in grazia in grazia non solo con la frequente confessione i sacramenti tutti sempre non la comunione giornaliera eccetera ma teniamoci in grazia anche con l'esame di coscienza continuo come ci ha insegnato Gesù quando l'anima si accorge di aver sbagliato deve subito fare l'atto di riparazione ti chiedo perdono se c'è da chiedere scusa a qualcuno andiamo a chiedere scusa subito aspettiamo e poi prendo il tuo atto ti chiedo perdono a te signore ti amo ritorno a te ti dono rifaccio la fusione ti ridò tutto di me e vestita di te riempita di te riempito di te vengo a prendere le tue riparazioni i tuoi atti santi e divini che uso vivo amo adoro assorbo e sostituisco i miei atti e ricominciamo perché Gesù ci dice che quando sbagliamo possiamo ritornare a lui subito a meno che non si tratta di un peccato mortale ci vuole la confessione quindi facciamo questa riparazione per andare a lui subito e non diciamo vabbè santificazione questo è il nostro purgatorio l'abbiamo letto allora mentre quindi Luisa si prepara in tutto mentre ciò facevo il benedetto Gesù è venuto è vestito a festa perché la deve accogliere in atto di ricevermi tra le sue braccia e mi ha detto figlia mia tutto ciò che meritai l'ho cedetti a tutte le creature quindi capiamo bene che Luisa ha fatto questo atto è che Gesù ha confermato tutto ciò che meritai quindi tutto ciò che io ho vestito che ho ho vissuto ho vestito nel senso che la nostra umanità l'ho cedetti a tutte le creature cioè l'ho fatto per voi e ve l'ho già dato sta tutto pronto in modo speciale e sovrabbondante a chi è vittima per amor mio quindi per lei per tutte le anime vittime e per tutte le anime mettiamo amanti perché ci possiamo fare vittima l'abbiamo detto ieri mi sembra ora scusate non mi ricordo o la settimana scorsa abbiamo detto facendo che cosa quello che abbiamo detto finora la fusione e ci facciamo in fusione lì a vittima per eccellenza è stata Gesù in fusione con Lui riviviamo Lui rivive in noi tutta la sua santissima umanità e quindi il suo stato di vittima è lui che ha fatto tutto quindi lo ridoniamo lo rimettiamo in circolo e lo ridoniamo al padre ecco che tutto ciò che vuoi te lo scelgo non solo a te ma a chi vuoi tu e poi ecco che Luisa subito ha ancora atto di carità di cura si preoccupa sta per per congedarsi dalla terra si preoccupa del padre confessore e Lui dice certo che riceverà la sua riconfenza poi l'arrivo del padre confessore dell'obbedienza del padre confessore della potestà sacerdotale che quando Luisa va a confessare tutto lui prende e dice no 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 dove vai non devi morire gli dà l'obbedienza e Luisa resta sulla terra ho sentito click vengo di qua Maurizio prego sì grazie per la per quanto riguarda però questo aspetto del fatto che noi possiamo prendere tutti gli atti di Gesù e farli nostri questo non è non è un'esclusiva delle anime vittime è tutto quello che noi dobbiamo fare perché questo concetto qua Gesù lo riporta avanti lo ridirà tantissime volte negli scritti fino al trentasettimo volume e quindi è una cosa che tutti tutti dobbiamo imparare a fare e la cosa più importante cioè ricambiare i nostri atti con quelli di Gesù in modo che quando il Signore ci guarda non ci guarda con i peccati che abbiamo fatto ma questi peccati non esistono più a parte che sono stati perdonati già con la con la confessione però tutta la nostra vita siccome noi abbiamo sostituito la nostra vita con quella che Gesù ha fatto per noi allora allora proprio questa è la cosa bellissima cioè che poi quando noi ci rivestiamo mettiamo fin da che questa cosa che ha fatto Gesù è come un vestito per noi il nostro vestito che lui ha preparato io me lo metto e allora ho tutti quegli atti che Gesù si aspettava da me io li ho fatti perché li ha fatti lui per me e io me li sono presi quando si parla di prendere l'eredità di Maria prendere l'eredità di Gesù è proprio questo cioè loro hanno fatto quello che hanno fatto ma non è che a noi ci danno il dono di prenderlo di poterlo fare nostro e quindi non necessariamente noi dobbiamo rifare tutto non necessariamente uno deve rifare tutte e vivere le sofferenze come le ha vissute Luisa le possiamo vivere se vogliamo ma non necessariamente perché i beni ci vengono anche dal fatto che noi li prendiamo da Gesù che già ce li ha messi a disposizione che Maria ce li ha messi a disposizione che Luisa ce li ha messi a disposizione allora capito tutto diventa più facile per l'umanità di oggi che un'umanità non fatta di santi di persone che hanno la predisposizione a essere vittime a immolarsi per amore del Signore perché questo lo fa uno su un miliardo però siccome Gesù questo dono lo vuole dare a tutti allora sembra che che è agevolato queste cose qua per aiutarci a che tutti potessimo prendere questo bene grande e lo permette anche di prenderlo così in modo facile a tutti anche quelli che hanno spirito di grande sacrificio è giusto perla e quindi ognuno poi nel suo rapporto personale con Gesù può dargli quello che vuole può farsi fare a pezzi per amore di Gesù se lo vuole fare e sicuramente a merito agli occhi del Signore ma non ce lo chiede Gesù necessariamente e per forza giusto? grazie 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 ok sì e come dici tu non abbiamo detto solo le anime vittime anzi l'abbiamo riletto la sua passata di qua e lo rileggiamo figlia mia tutto ciò che meritai è rimasto sottolineato guarda lo cedetti a tutte le creature in modo speciale quindi abbiamo letto la parola come dice Gesù in modo speciale lo dice Gesù e sovrabbondante a chi è vittima per amor mio quindi come hai detto te e come è stato detto è così ma in modo speciale e sovrabbondante a chi è vittima e per amor mio quindi è così ma non abbiamo detto niente di diverso sai anzi quindi non è tale vale per gli atti di Gesù e di Maria poi il fatto che dici che non c'è bisogno allora noi intanto abbiamo rifatto no la vita nostra hai detto la stiamo rifacendo la vita nostra è tutta rifatta ma noi dobbiamo andare a comprendere a conoscere perché altrimenti stiamo vanificando tutto quello che il Signore ha fatto se non andiamo a conoscere ad essere consapevoli a fare conoscenza a fare vita e a numerare perché Gesù in altri brani dice che lui ama proprio che noi andiamo a girare e a rigirare e non solo e tu dici è un vestito sì tante volte lo diciamo per semplicità ma è di più perché vestito sembrerebbe un prendere e mettersi addosso questo è importante capire come se fosse una cosa esteriore e questo non va perché noi dobbiamo fare di più non è solo un vestito è una vita vuol dire questo implica un atto interiore perché altrimenti noi possiamo fare capito l'atto ci facciamo l'atto con le labbra e allora mettiamo il vestito mentre invece non c'è solo una comprensione intellettuale e quindi ci rivestiamo rivestire un modo di dire ma rivestire come vuole Gesù è vivere la sua vita quindi internarla e per fare questo dobbiamo dare la nostra volontà e la nostra volontà si compie la nostra unificazione a lui questa fusione di cui parliamo una sera sì e un'altra pure perché questa è la vita in unione con Gesù contempla che noi ci offriamo a lui gli doniamo il dono più grande che ci ha fatto cioè oltre alla vita oltre all'amore il dono della libertà quindi della volontà libera e questo per fare noi è per noi il sacrificio come ci dice la mamma il sacrificio dei sacrifici non è semplice ma non è facile attenzione Gesù dice io sono l'essere più semplice e tutto è semplice e lì ti do ragione e ti dico è così ma non che diventa un vestito perché non è un fatto esteriore fiat fiat o prendo il tuo atto e lo sostituisco al mio con l'intento con l'intelletto ma è proprio un'intenzione che si compie si realizza quanto più lo dice Gesù l'anima conosce e si dona e per non sbagliare ecco che lo specifica proprio nella frase che vediamo tutto ciò che lo meritai lo cedetti a tutte le creature in modo speciale e sovrabbondante a chi è vittima per amor mio cioè a chi si sacrifica e le anime della divina volontà il loro sacrificio ce l'hanno proprio nell'offrirsi come non nel stato di vittima che pensiamo noi anche nella nostra logica ma nello stato di vittima cioè che offriamo la nostra volontà quindi ad ogni cosa che ci accingiamo fare intenzioniamo come ci ha detto Gesù con le labbra con il cuore ma con l'intenzione vera di non vivere più noi e questo ci porta a un fare continuo e questo fare continuo è facile dirlo a voce ma poi ci vuole una costanza e una perseveranza rimango ferma sul discorso perché Gesù lo dice che è semplice e qui non ci tange però non vanifichiamo tutto lo sforzo che stiamo facendo a cui siamo chiamati che siamo chiamati a vivere quotidianamente per avere la perseveranza perché altrimenti rimaniamo superficiali e poi i frutti non arrivano non amiamo Gesù e il frutto nostro deve essere dare amore a Lui il nostro primo obiettivo la prima finalità Fia Scusami per quanto riguarda il fatto del vestito io intendevo lo prendo come esempio per esprimere il fatto di poter prendere l'eredità di Maria di Doni di Maria di Gesù e li faccio miei li faccio miei certo che li deve interiorizzare che rimane all'esterno di me diventa vita mia è chiaro che diventa vita ci mancherebbe se non diventasse vita io sto prendendo vita non sto prendendo cose e quindi siamo capiti sotto questo punto di vista ci siamo però specifichiamo Giù si scrive è semplice nel momento in cui c'è consapevolezza e conoscenza per attuarle certo e l'atto continuo di attuarlo nella vita nostra il nostro sacrificio però vediamo perché tanto il libro di cielo non non trascura nulla ci fa lezione su lezione Gina vedo la mano alzata Rita però abbiamo l'accordo ecco non dimentichiamo che siamo nella lettura siamo nel nel comprendere il testo quindi facciamo le domande chiarimenti senza di divagare diciamo ecco perdonatemi però abbiamo fatto un accordo quindi prego dite pure se poi ci andiamo avanti un altro pochino non so chi sta parlando perché si sente male guardate il microfono Gina sei te non si sente Gina mi dispiace prova a uscire e rientrare vediamo se magari o se c'è le cuffie Gina come l'altra volta prova a levarle ok niente Rita avevo visto la manina anche tu alzata io non mi ripeto hai detto tutto quello che mi stava passando in testa lo stavi dicendo tu quindi sono contenta che insomma quello che avevo capito me l'hai rafforzato però mi viene in mente poi anche quello che dice la Madonna il sacrificio dei sacrifici o qualcosa del genere non ricordo esattamente però è appunto sacrificare la propria volontà non un momento sì uno no ma tenerla sacrificata continuamente tutta la vita quello è il sacrificio quindi ecco io non penso magari che dovremmo fare le stesse cose che ha fatto Luisa cioè mi verrebbe da dire proprio così il sacrificio dei sacrifici è questo anzi la mamma dice che lei l'ha fatto appunto dal primo momento e lei aveva la volontà che però non ha mai voluto conoscere e ci fa notare pensi tu che non che non sia stato un sacrificio è stato il sacrificio più grande non far vivere mai il mio volere quindi adesso noi dobbiamo entrare in questo mare di amore dobbiamo abbiamo tutto l'aiuto possibile tutto e l'insegnamento la stessa mamma la vita di Gesù quindi abbiamo tutto però ecco appunto abbiamo bisogno di questo esercizio ma non abbiamo messo nulla di quello che Giuse prego no no volevo che leggessi il messaggio che ha scritto una sorellina che è molto interessante sapere la risposta attenente proprio al brano solo se metto i messaggi non riesco più a parlare quindi se per favore puoi rispondere sarebbe stata aspetta no no scusa se Gesù avesse portato Luisa in paradiso dice Patrizia vuol dire che per lui sarebbe stata completata la dottrina della divina volontà ecco questa penso che sia una risposta una domanda un po' che beh se non l'ha permessa evidentemente non era pronto perché altrimenti non l'avrebbe l'avrebbe permesso quindi questo se non so perché non l'ha permesso dovevo offrire ancora anzi 40 anni ancora al quarto volume mancano altre 32 mi viene mi viene la domanda perché Gesù allora era così contento di accoglierlo tutto l'esercizio di un insegnamento ah ecco va bene grazie Fia almeno così interpretiamo allora questo era anche se lei aveva l'intenzione di morire per andare da Gesù quindi è una gioia solo l'intenzione solo l'intenzione voleva stare con lui veramente per sempre ma siccome doveva offrire sempre perché non c'era nessuno che poteva prendere sto posto e quindi Gesù gli dava un po' di speranza e un po' di genere no ancora fai così e così è una continua offerta io quando gli dico a Gesù voglio stare con te lo so che sto con te o attualmente però un conto è stare con lui proprio come era l'apostolo proprio starlo con lui non mi separare mai né vederlo proprio come voglio dire come era Luisa aveva poche parole noi dobbiamo infatti imitare Luisa questo dobbiamo fare e basta ok andiamo avanti che tanto i brani poi ti spiegano da soli 4 settembre 1902 il confessore ha vietato a Luisa di morire perché lei come vittima sostiene protegge il mondo e in parte la chiesa necessità di trovarsi in pace un informato al signore continuando a sentirmi male vi sentivo insieme un'inquietudine per questa strana obbedienza come se non potessi prendere il volo verso il mio sommo ed unico bene con l'aggiunta che dovendo il confessore celebrare la sanza messa non voleva darmi la comunione per i continui urti di vomito che mi molestavano ma Gesù Benedetto siccome il confessore mi ha detto che per obbedienza mi facessi di toccare lo stomaco da Gesù Cristo appena venuto mi ha toccato lo stomaco e si sono arrestati i vomiti continui ma il male non cessava e Gesù vedendomi così inquieta mi ha detto figlia mia che fai non sai tu che se la morte ti sorprende trovandoti inquieta ti dovrà toccare il purgatorio perché se la mente non si trova unita alla mia la volontà una con la mia i desideri non sono gli stessi miei desideri di necessità ti conviene la purificazione per trasformarti tutta in me perciò stai attenta pensa solo a stare unita con me ed io penserò al resto ora mentre ciò diceva vedevo il Papa e la Chiesa a parte della quale poggiava sulle mie gambe e insieme vedevo il confessore che sforzava Gesù a non portarmi per ora il Benedetto Signore ha detto i mali sono gravissimi e i peccati stanno per giungere al punto di non meritare più anime vittime cioè che sostenga e protegga il mondo dinanzi a me se questo punto tocca la giustizia certo me la porterò sicché comprendevo che le cose sono condizionate via ecco come diciamo solitamente come abbiamo detto poco fa come vediamo sempre ogni brano è già luce da luce al brano precedente infatti vediamo che quindi Luisa continua appunto a stare male e ha gli sforzi di dunque si sono arrestate ok di vomito e che cosa succede quindi entra in uno stato di inquietudine e Gesù avvisa quindi avvisa Luisa avvisa tutti noi non sai tu che se la morte ti sorprende trovandoti inquieta ti dovrà toccare il purgatorio quindi questo è il nostro purgatorio il sacrificio dei sacrifici come dice la mamma di non far vivere l'umano volere di stare in continuo sempre maria si vedi questo vedi il punto Gesù come si parla man mano piano piano questo volevo dire prima che non l'ho specificato se non ci purifichiamo e come facciamo qua meglio sconderlo qua dice Gesù o non andare così viene dritto come in paradiso questo è purificare noi stessi con gli altri offrire per la purificazione nostra e gli altri ma ma non è tanto poi tanto sofferenza che pesa perché poi è Gesù stesso che prende tutto il peso come era Luisa e quindi poi ci porta in uno stato di pace di amore di gioia che sembra difficile ma invece è facile questo volevo dire basta Fia ok Fia allora dicevamo quindi che non sai tu che se la morte ti sorprende trovandoti inquieta ti dovrà toccare il purgatorio quindi sta a noi ancora una volta avere questa riflessione e ancora di più quindi essere tutti nell'intenzione di unificarci a lui perché se la mente non si trova unita alla mia ecco la qualificazione la volontà una con la mia i desideri non sono gli stessi miei desideri di necessità ti conviene la purificazione quindi per necessità bisogna andare poi a vivere la purificazione per trasformarci in Gesù perché per trasformarci tutto in me quindi noi questo è il nostro appunto lavorio continuo chiedere a Gesù viene in me Gesù io in te chiamarlo ma anche interessarci immedesimarci come dice Gesù in lui pensare a lui e cercare di compiere tutti quegli atti di interesse suo quindi nessuna intenzione anche nella preghiera intendo tu e quali saranno immedesimarci in quello che è la mente di Gesù i suoi pensieri qual è l'interesse di Gesù che tutti ti amano che tutti ti adorino che tutti ti conoscano ti amo per tutti eccola qui l'intenzione la realizziamo subito ti amo non solo come intendo ma proprio come atto perciò stai attenta e pensa solo a stare unita con me e io penserò al resto e questa è la frase che ci dobbiamo mettere nel cuore però voglio pregare per certo partiamo da magari da un'intenzione ma subito mettiamo il totale ti prego per questo vengo a prendere i tuoi atti per questa persona lo facciamo continuamente no penso prendo tutti gli atti che hai compiuto per questa persona e per tutti e per ciascuno come lei in questo stato di sofferenza in cui si trova lei e per tutti e per ciascuno e prendo i tuoi atti amo i tuoi atti li adoro rendo gloria e questo continuo con penetrarsi che cosa fa questo continuo disporsi fa sì che Gesù lascia la grazia e cominceremo a sentirci sempre e dopo diventa come diceva Rosarita sempre più facile perché arriva la grazia altrimenti di nostro non sarebbe mai no? ma è la grazia che ci sostiene i mali sono gravissimi ecco poi bello questo no? vedevo il Papa e la Chiesa parte della quale poggiava sulle mie spalle quindi Luisa Gesù non se la porta perché? e qui perché lo vediamo proprio no? il Papa e la Chiesa poggiavano sulle sue spalle l'anima lei come anima vittima sosteneva tutto come maestone potenza perché lei era in Gesù cosa ha detto Gesù in un altro brano se non ci fossi io tu non potresti e quindi tutto ancora poggia in Gesù in Luisa quindi di partita Luisa sarebbe stato gravissima non la situazione gravissima la situazione insieme insieme vedevo il confessore che sforzava Gesù a non portarmi per ora il benedetto Signore ha detto i mali sono gravissimi e peccati stanno per giungere al punto di non meritare più anime vittime e ok quindi poi va bene è chiaro che si aumentano dice Gesù non meritano neanche più le anime vittime i fatti umani quindi noi diamoci da fare con il consolare l'amare e riempire i vuoti di gloria settembre 5 1902 Luisa non può morire perché l'ubbidienza glielo impedisce mentre si sente chiamata da Gesù dai santi e dagli angeli ad andarsene con loro oh poverino continuavo a sentirmi male il confessore continuava a essere fermo anzi ad inquietarsi perché non l'ubbidivo riguardo a non morire e a pregare il Signore che mi facesse cessare la sofferenza d'altra parte mi sentivo stimolata da Gesù benedetto dai santi dagli angeli ad andarmene con loro che ora mi trovavo con Gesù ed ora insieme con i cittadini celesti in questo stato mi sentivo torturata non sapevo io stessa che fare ma me ne stavo quieta temendo che se mi portava non mi trovassi in punto di andarmene spedita con Gesù onde tutta mi abbandonavo nelle sue mani ora mentre mi trovavo in questa posizione vedevo il confessore ed altri che pregavano per non farmi morire e Gesù mi ha detto figlia mia mi sento violentato non vedi che non vogliono che io ti porti ed io anch'io mi sento violentato davvero che mettete una povera creatura a questa tortura meriterebbe una pena e Gesù quale pena vuoi che vuoi che dia loro ed io non sapendo che dire dinanzi a questa fonte di carità inesauribile ho detto dolce Signor mio siccome la santità porta con sé il sacrificio falli santi che se non altro loro avranno l'intento di tenermi con loro ed io avrò l'intento di vederli santi avendo loro la pazienza di sentire la pena che porta con sé la santità la pazienza che porta con sé la pazienza di sentire la pena che porta con sé la santità la santità è paziente Gesù nel sentirmi si è tutto compiaciuto e mi ha baciato dicendomi bravo alla mia diletta hai saputo scegliere l'ottimo per il loro bene e per la maggior gloria sicché per ora si deve scegliere riservandomi in altra occasione di portarti subito non dando loro tempo di poterci fare violenza quando Gesù è scomparsi ed io mi sono ritrovata in me stessa litigate in gran parte le mie sofferenze con un nuovo vigore come se fossi ritornata a nascere ma solo Dio sa la pena lo strazio dell'anima mia spero almeno che voglia accettare la durezza di questo sacrificio e allora qui vediamo tutto spiegato questo questo scenario di di combattimento no quindi lei che addirittura gli angeli santi e che che prova che prova povera Luisa siamo al quarto volume quindi ancora siamo nella nell'apprendere la totale la totale volontà divina nel fare nel fare tutta sua nell'essere tutta assorbita eppure è a queste questa prova così forte per cui lei si ha il dolore la sofferenza il richiamo dei santi degli angeli e stimolata dallo stesso dallo stesso Gesù e poi l'obbedienza e in questo stato lei subito ha preso l'insegnamento cerca di stare quieta non prendiamola come una semplice visione di quello che viveva Luisa prendiamo sempre tutto a incorporare anche noi facciamoci subito senza rimando a quietarci quando capitano le prove a quietarci davanti ad ogni stato di sofferenza di sacrificio qual è il nostro sacrificio? non far vivere l'umano volere quindi è come Rosalita scusami perché se no perdo il filo no ed io non sapendo che dire dinanzi a quella fonte di carità inesauribile ho detto dolce signor mio siccome la santità porta con sé il sacrificio quindi se noi ci vogliamo fare santi impariamo a fare subito senza rimandio falli santi lei subito mette l'intenzione di Gesù quale sarà l'intenzione di Gesù falli santi quindi non dice portami non portami dagli retta non dagli retta ma dice falli santi ok e Gesù subito ecco è compiaciuto quindi prendiamo subito questa tutti gli insegnamenti parte per parte suggeriamo tutto Gesù ciò che tu hai già fatto compiuto e ci vuoi donare e quindi poi ecco riservandomi un'altra occasione di portarti subito dice Gesù non dando loro tempo di poterci fare violenza però ecco la rinascita non poi lei si rivede nel suo letto come se fosse ritornata a nascere con un nuovo vigore però sottolinea la durezza di questo sacrificio ecco quindi il nostro sacrificio deve essere questo però ecco è importante capire e capire che dobbiamo continuamente sempre di più comprendiamo che continuamente perché questa è una scuola divina che il Signore ci sta donando continuamente la perseveranza Rosarita prego sì la sera infatti questo io dicevo di restare nella vita e nella pace perché se uno poi appena esce cioè che la pace noi si toglie con le arrabbiature qualsiasi cosa che ne so e lì è che già subito noi usciamo dalla divinità Gesù non può restare noi per darci quella forza di continuare avanti e quindi è questo di stare sempre nella quiete non nella pace anche se ci sono contrarietà su queste cose vedi anche l'isa che magari aveva sempre male però poi Gesù gli diceva ma tu devi stare tranquilla nella pace tanto lo sai che poi sarai con me e quindi lei sequetava e di così che dobbiamo fare che superiamo le cose le supereremo come era Luisa ma infatti questo percorso Rosarita che stiamo facendo appunto leggendo i primi dieci volumi è tutta una purificazione è un insegnamento infatti questo dico io ecco dobbiamo essere obbedienti e allenarci continuamente certo allenarci continuamente impariamo a non fare come dicevi poco fa Rosarita le uscitine continue perché ce lo dice Gesù ma ecco che appunto i libri i primi volumi diventano la radice le fondamenta fondamentali ok settembre 10 poi ci fermiamo e passiamo alle ore della passione se siamo tutti d'accordo il vero amore deve essere costante ecco guardate guardiamo come ogni brano esplicita il precedente il vero amore deve essere costante forte un amore che è in vincola a Dio e il prossimo stavamo parlando di perseveranza di costanza credevo che il benedetto Gesù fosse ritornato secondo il solito il benedetto Gesù fosse ritornato secondo il solito ma quale non è stato il mio disinganno che dopo avere deciso che per ora non mi portava ha incominciato a farmi stentare per vederlo e il più delle volte ad ombra e a lampo quindi questa mattina sentendomi molto stanca e sfinita di forze per il continuo desiderare ed aspettare pare che è venuto e trasportandomi fuori di me stessa mi ha detto figlia mia se sei stanca viene al mio cuore bevi e ti rinfrancherai così mi sono avvicinata a quel cuore divino e ho bevuto a larghi sorse un latte misto a sangue dolcissimo dopo ciò mi ha detto le prerogative dell'amore sono tre amore costante e senza termine amore forte e amore che riannuda insieme Dio e il prossimo se nell'anima non si scorgono queste prerogative si può dire che non ha le qualità del vero amore fiat e qui nel nostro guaderno possiamo dare libero sfogo alla penna fare il disegnino io ho fatto il cuore l'amore che vuole Gesù è vero amore quindi amore con le tre freccettine amore vero che deve essere costante perché deve essere eterno quindi deve entrare nell'eternità almeno noi sforziamoci per trasformarlo per entrare in Gesù di donare una una costante noi in modo che il nostro amore assorbito nel suo diventerà amore la costante assenza termine perché diventerà eterno nel suo amore forte quindi un amore che sta attento noi siamo deboli possiamo dare solo questo sempre e solo con la fusione sempre e solo col sacrificio del nostro volere nell'intenzione e nell'esercizio nella disposizione amore che riannoda insieme Dio e il prossimo primo e il secondo comandamento c'è amore che ama dello stesso amore di Dio e quindi include l'amore al prossimo altrimenti non è amore vero non c'è amore esclusivo amo solo te Dio i miei fratelli no ok se nell'anima non si scorgono queste prerogative si può dire che non ha le qualità del vero amore e qui c'è sempre la cartina torna sola amo a tratti amo in modo incostante amo di un amore superficiale amo Dio non amo il prossimo allora cominciamo a esercitarci a rientrare in questi tre semplici richiami che Gesù ci fa ok ci fermiamo qui abbiamo fatto le cinque pagine che dice Pian Paolo vediamo dove eravamo se va bene per voi facciamo la meditazione delle ore della passione così la nostra serata in preghiera continua ok vedo le manine alzate poi chiudiamo la registrazione e facciamo fino al 10 settembre incluso ok allora intanto suggeriamo nella divina volontà tutto ti amiamo adoriamo e ringraziamo Santissima Trinità e continuamente nella tua divina volontà con i tuoi stessi atti Gesù che veniamo a riconoscere a fare nostri amandoti nel tuo amore donandoti la nostra volontà ci riempiamo di te e desideriamo vivere sempre uniti ti ringraziamo con le tue stesse parole grazie Padre ti siano rese che sempre esaudisci i figli tuoi suggellando tutto nel fia ti amiamo impetriamo la divina volontà su noi e su tutti Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come il cielo così in terra prego dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amén Ave Maria piena di grazie il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo segno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amén sia gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amén fiat piazzi Grazie.